Torna il salto con l'asta in piazza a Trani, una esperienza che non manca mai di catturare l'attenzione e le emozioni del pubblico. Ho voluto fortemente questa terza edizione perché soprattutto dopo il 2010-2012 è nata una scuola di salto con l'asta a Trani. Il mio sogno si è realizzato, ho con me un ragazzo tra i primi tre a livello nazionale nel salto con l'asta, il Joseph Boccaforno. Con quattro metri e dieci. Quindi quello che volevo era proprio questo, far avvicinare i ragazzi al salto con l'asta, quindi con una scuola di salto con l'asta con un ragazzo ad altri livelli. L'aspetto forse più importante è quello di essere davvero una palestra di vita. C'è l'abitudine al sacrificio, al lavoro, alla sofferenza ma anche a situazioni come questa. Sì, sì, i ragazzi hanno capito che con lo sport si impara molto, col salto con l'asta, come ho sempre detto, quell'asticella che cade giù è il simbolo di un qualche ostacolo che nella vita devi rimetterla su, devi ricontinuare a correre, a saltare e superare qualsiasi ostacolo. Ed è anche nutritissimo il parterre di atleti italiani e internazionali. Sì, abbiamo allargato un po' il parterre, abbiamo i migliori atleti italiani, sia femminile che maschile, la campionessa italiana Roberta Bruni, fresca degli europei a Zurigo, il campione italiano indoor Alessandro Sinno e abbiamo la campionessa belga Cloreri e una spagnola Rebecca. Il traguardo prossimo quale potrebbe essere? Il traguardo è quello, è sempre in dirittura di arrivo, siamo lì, passo sempre dal comune per conoscere la situazione, è quella della nuova pista del salto con l'asta Trani, sempre in dirittura di arrivo, incrocio le dita perché sembra che a settembre si inizia. Dove? Alle spalle del palazzetto dove con le mie forze ho rimesso su una vecchia pista e di là sono nati questi ragazzi, quindi significa che la voglia soprattutto dei ragazzi e quella di saltare è tanta. Grazie a tutti.